Adesso diamo un sguardo invece all'economia. I sardi vedono la qualità della vita sempre in peggioramento con l'aumento dell'inflazione. Vediamo il servizio di Maurizio Ciotola. La capacità di spesa degli italiani si sta riducendo sempre di più. La causa è l'inflazione che sembra essere ritornata a due cifre come non la vedevamo dai primi anni Ottanta. Da Craxi in poi non vi è mai più stato un livello così alto dell'inflazione e una bassa capacità di spesa dei cittadini italiani. Dopo anni di deflazione e equilibrio borderline siamo in piena discesa verso il baratro cui non sarà l'economia di guerra a salvarci. E ovviamente laddove, come in Sardegna, il reito medio era già ben al di sotto della media nazionale, una riduzione della capacità di spesa porterà a un ulteriore impoverimento. L'inflazione è certo causata dalla speculazione energetica con cui vengono fagocitati enormi capitali dalla massa dei cittadini e in parte dalle imprese. Ma i costi reali delle imprese, sostenuti dai bonus dello Stato, non sono coerenti con l'impennata che le stesse e le attività commerciali hanno dato con l'aumento dei prezzi. E se il reddito pro capite rimane immutato o quasi, il danno che ogni persona subisce per la mancata possibilità di acquisto di beni essenziali si trasferisce sul mercato che si contrae. Oggi un mutuo a tasso variabile arriva al 7%, oltre il doppio di 4 anni fa. Chi aveva già contratto un mutuo per l'acquisto di un immobile unitamente alla crescita dei costi energetici che in inverno pesano sulle famiglie a mala pena riesce a nutrirsi e vestirsi. Se poi vi sono i figli che studiano le condizioni peggiorano in misura pesante. I poveri non sono diminuiti, la povertà non è stata abolita, il lavoro non è evoluto e il ritardo di una transizione culturale, in Sardegna come nel paese, ci sta trascinando verso una povertà irreversibile.